E ciao a tutti ragazzi, innanzitutto come sempre un saluto a tutti gli iscritti in questo video andremo a vedere come completare la prima tomba legata al nuovo aggiornamento nel video che seguirà partiremo dalla sua posizione successivamente poi andremo a vedere come raggiungere ed ottenere l'armatura al suo interno inoltre vi mostrerò anche dove si trovano, dove sono posizionati gli opali proprio all'interno di questa tomba per quanto riguarda i primi si trovano all'interno di una stanza di cui basta fare e saltare in aria l'ingresso nel video che seguirà, una volta che lo faccio, non ci saranno opali ma vi garantisco che ci sono semplicemente nel video che vi ho caricato non appaiono perché li avevo già ottenuti in un caricamento precedente per quanto riguarda invece gli altri che troverete, troveremo all'interno della stanza principale vi mostrerò come raggiungerli al termine del video, sarà proprio possibile raggiungerli scalando una parete detto già ragazzi vi lascio al proseguimento del video, vi auguro buona visione e vi informo ovviamente che nei giorni successivi vi caricherò anche i video che riguardano le altre tombe ragazzi di nuovo un saluto e buona visione spiega le ali, sinin spiega le ali, sinin spiega le ali, sinin spiega le ali, non benefited Grazie. 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 Una camera nascosta. Questa è opera degli antichi romani. È l'Inghilterra. Strano. Alcuni luoghi sono segnati. Sì. 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 L'opera di un folle. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.